fra questi ragionamenti fra questi venti alterni che spingevano il mio cuore or qua or là passava il tempo e io tardavo a rivolgermi verso il signore differivo di giorno in giorno l'inizio della vita in tema non differivo la morte quotidiana in me stesso per amore della vita felice temevo di trovarla dove si trova e la cercavo fuggendola mi sembrava che sarei stato troppo infelice senza gli amplessi di una donna non pensavo al rimedio che ci porge la tua misericordia per guarire da quell'infermità perché non l'avevo mai sperimentato pensavo che la continenza si ottenesse con le proprie forze e delle mie non ero sicuro ero così stolto da ignorare che come sta scritto nessuno può essere continente se tu non lo concedi e tu l'avresti concesso se con il pianto dell'anima avessi bussato alle tue orecchie e con salda fede avessi lanciato in te la mia pena per la verità alipio mi sconsigliava di prendere moglie se lo avessi fatto non avremmo potuto più vivere assieme indisturbati nel culto della sapienza come da tempo desideravamo personalmente egli osservava fin da allora una castità assoluta e questa condotta era tanto più ammirevole in quanto nei primi anni della sua adolescenza aveva sperimentato il piacere della carne ma non vi era rimasto intrappolato ne aveva avuto piuttosto rimorso e disprezzo e da allora viveva in una continenza assoluta io gli opponevo l'esempio di quanti sposati avevano comunque coltivato gli studi guadagnato meriti presso dio e goduto di fedeli e reciproche amicizie ma in verità io ero molto lontano dalla sua spiritualità legato alla carne malata ne trascinavo la catena con un godimento mortale timoroso che si sciogliesse e respingendo come se mi si riaprisse una piaga la mano liberatrice dei buoni consigli ma c'era di più per bocca mia parlava ad alipio il serpente e lo accalappiava disseminando gradevoli trappole sulla sua strada per mezzo della mia lingua ove impigliare i suoi piedi onesti e liberi ogni volta che si discuteva tra noi egli si stupiva che io non poco stimato da lui fossi invischiato nel piacere a tal punto da affermare che non avrei potuto assolutamente condurre una vita celibe ed io al vedere il suo stupore mi difendevo sostenendo che c'era una bella differenza tra le sue esperienze rapide e passeggere ormai quasi dimenticate e quindi facilmente disprezzabili e la mia abitudine a quei piaceri ai quali mancava soltanto il sacro vincolo del matrimonio per togliergli ogni ragione di stupore alla fine aveva cominciato anche lui ad avere il desiderio di sposarsi non per desiderio di piacere ma per curiosità era curioso diceva di conoscere il bene senza il quale la mia vita a lui accetta così com'era a me non sarebbe sembrata più una vita ma un tormento il suo animo libero da legami si meravigliava della mia schiavitù e la meraviglia lo spingeva a farne esperienza ma fatta quell'esperienza forse sarebbe caduto proprio nella schiavitù di cui si meravigliava cercava di stringere un patto con la morte perché chiama il pericolo vi cadrà certo nessuno di noi due era troppo interessato alla dignità coniugale quale può consistere nel compito di guidare un matrimonio e di allevare dei figli io essendo uno schiavo torturato dall'abitudine di appagare l'inappagabile sensualità lui essendo trascinato alla schiavitù dal fascino dell'ignoto tale fu la nostra condizione finché tu altissimo che non abbandoni il nostro fango impietosito dalla nostra miseria ci venisti in aiuto per strade mirabili e segrete